Dopo l'uscita della Regione Abruzzo dal commissariamento della Sanità, il Movimento 5 Stelle e Pettinari denuncia un nuovo indebitamento di tre ASL abruzzesi, Pescara, L'Aquila e Chieti. Sì, abbiamo svelato dei dati inediti. Alla verifica del primo semestre 2017 è venuto fuori che le ASL di Chieti, L'Aquila e Pescara hanno fatto un indebitamento pari a 46 milioni di euro. Sforando quello che era stato il patto con il piano di rientro del Ministero. Quindi che significa? Che se non si rientrerà, se non si andranno a razionalizzare e a contrarre le spese, c'è il rischio che si possa rientrare nel commissariamento della Sanità in Abruzzo se i conti non vanno bene. Il problema è che contraendo le spese e razionalizzando le spese si andrà a toccare la spesa farmaceutica, quindi ridurre la spesa farmaceutica, la spesa del personale. E' già alcuni direttori generali delle ASL che ci dicono che non hanno più soldi nemmeno per la carta igienica. Quindi non c'è nulla da gioire. L'assessore Paolucci e il Presidente D'Alfonso si dovrebbero rendere conto della tragicità in cui ci ritroviamo e del grave pericolo che c'è. Quindi, cosa dire? E' un fallimento totale sotto tutti gli aspetti. La politica regionale ha fallito, si esce dal commissariamento, ci dicono che va tutto bene e ci accorgiamo che si sta tornando a fare indebitamento. E' una bocciatura sotto tutti i frondi da parte nostra. Però qualche settimana fa erano arrivati i dati del Ministero della Salute che dicevano che per quanto riguarda i livelli di assistenza nella nostra regione, l'Abruzzo aveva fatto un sostanziale e importante passo in avanti. Ecco, perché il Ministero della Salute non ha questi dati. La regione Abruzzo, con una delibera di qualche giorno fa svelata dal sottoscritto, ha scoperto questo indebitamento. Adesso lo deve trasmettere al Ministero della Salute. Se non ci riescono a contrarlo, il Ministero della Salute c'è il rischio che ci dica a alta. Adesso state sbagliando tutto e dobbiamo rimettervi sotto osservazione. Questo è il problema. Il Ministero della Salute non lo sa di questa cosa, non lo sa ancora, non gli è stato ancora comunicato. Questo è il vero dramma.